Allora, l'emergenza coronavirus, a quanto pare il governo ha emesso un decreto con il quale chiude tutte le scuole d'Italia. Vuol fare un annuncio, signor Sindaco? No, niente, intanto un caro saluto ai miei concittadini e li volevo informare, ma già sicuramente ognuno di loro sarà collegato con il telegiornale, con la televisione, quindi avrà preso già la notizia. Il Consiglio dei Ministri ha decretato che fino al 15 di marzo le scuole saranno chiuse. Io adesso sto aspettando ulteriori disposizioni, sono in contatto anche con la Prefettura, avevo parlato una ventina di minuti fa, e attendiamo notizie su tutti i comportamenti che il decreto sicuramente avrà emanato, anche per altre situazioni. E quindi colgo l'opportunità di questa intervista per dire che informerò costantemente i nostri concittadini su quelle che saranno le disposizioni che il decreto da poco emanato avrà messo in atto. Quindi ecco, la ringrazio per questa ulteriore opportunità che le mi dà per dire ai cittadini che ritornano informati in motivazione. Ovviamente raccomando ancora, massima prudenza, seguire con po' gli indirizzi di comportamento che il Ministero e che soprattutto gli organismi della sanità stanno suggerendo, ma soprattutto grande tranquillità.